Con il termine nazardo ci si riferisce a un particolare registro d'organo. Si tratta di un registro ad anima che fa parte della famiglia di registri di mutazione semplice. Il nome deriva dalla parola naso in quanto il suono è particolarmente nasale. È il registro di mutazione più diffuso ed è anche conosciuto con i nomi di Quint Flute e di Nasat Quint. Sostanzialmente si tratta di un flauto con canne che possono essere sia coniche che cilindriche, trasportato una dodicesima sopra la nota reale. In pratica, premendo il tasto Do, il nazardo produrrà un Sol. Vediamo e ascoltiamo l'esempio. Suono il Do centrale con il registro di bordone, tolgo il bordone e metto il nazardo suonando la stessa nota. Spesso il nazardo, detto anche flauto in dodicesima, viene confuso con la duodecima che invece fa parte delle file del ripieno. Infatti la duodecima appartiene alla famiglia del principale. Il nazardo è una delle più antiche voci organistiche ed è presente in tutte le scuole organarie. La sua voce è inconfondibile, si utilizza spesso in unione al bordone di otto o al flauto, fornendo effetti veramente suggestivi che ben si adattano ad esempio al genere pastorale. Grazie a tutti.